Hai notizie dagli scout? No, mia signora. Abbiamo la compagnia del Dominante. Tra non molto cattoreremo la nostra preda. Molto bene. Gli altri, invece? Al momento i portatori si trovano a Kerr Norvent. Meglio trattenerne alcuni, allora, in caso il Dominante ci sfugga. Ho già provveduto. Non verranno viziati. Ve lo assicuro. Signori, un brindisi. Venirete a me? Grazie. Alla nostra signora dei venti e al re! Sì! Gli imperiali bevono questo schifo. Beh, questo finalmente spiegherebbe il loro fiato. Lady Benedicta! Iperiali! E invece di ucciderli, tu li hai condotti dritti cui da noi. Pietà! Guardate un po' che abbiamo qui. Un portatore imperiale. Bene. Mi stavo annoiando. Bu... 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 Ma dov'è? Stanza, Cirada! Quello cos'è? Se è quello che sto pensando, Seed dovrà spiegarmi molte cose. Tutti qua! Troppo lento! Vai! Stavolta no! Sai cosa fare, bello? Vai! Lasciami scappare! Vai, bello! Lì, bello! Di qua! Vuoi ancora? Vai, bello! Stavolta no! Andiamo, Torgan! Vai! Lì, bello! Inizio a distanza, bello! Stavolta no! Stavolta no! Lì, bello! Dai il massimo, bello! Le mie ferite, bello! Troppo lento! Mordi, Torgan! L'acqua! Lé, bello! Lé. 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 Grazie.